Allora, guardate, fuori piove, questo è come mi torna in casa lui, perché poverino, c'è fango ovunque. Lui entra, va in giro, così, adesso vi faccio vedere le zampe. Allora, stanotte, alle tre, tutti e due, anche lui, quel delinquente, tutti e due mi sono tornati a casa con sti piedi e pretendevano di salire sul letto. Ma che vita faccio io? Da single, per forza. Luce, vuoi far vedere al tuo pubblico i tuoi piedi? Hai fatto una grande interpretazione e con tutti sei un pochettino confusa, ma c'è stata... Oh, aspetta. Oh, la mamma è brutta, non si deve vedere questo video. Si deve vedere solo i tuoi piedi. Aspetta. Ciao. Guardate. Guardate. Questo è un piede sozzo. Lucio. Posso pulirti? Posso pulirti? Brutta la mamma, struccata. Ti devo lavare, stai qui. Salvietta. Dammi un piede. Dammi un piede. Aspetta. Un altro piede. Dai. Dai. Un altro. Allora, grazie Alessandra. Il secolo e Manuel. Ti aspettiamo quando vuoi. Sei il numero uno. Grazie a te la volta e grazie. Dove vai? Adesso riesci, no, eh? A salutare. No, eh? Adesso stai qui a lavarti i piedi. Mi mando da noccia. Mi mando un abbraccio. Insieme lo mando a... Sì. 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 Sì.